arriva sul secondo palo il pallone Federico Fernandez lo tocca sotto porta Pandev il vantaggio del Napoli dopo 38 minuti ancora Goran Pandev 1 a 0 qui a occhio a Iguain c'è relazione fantastica su Domizzi nel re dei rigori Iguain la metta al rimorchio ancora Pandev delirio Pandev 1-2 terribile del Macedone sesto gol in campionato e 2 a 0 per il Napoli arriva il pallone che spiove nell'area di rigore vado a staccare Ertola, prende lui, deviazione e palla dentro, probabile autogol e 2 a 1, l'Udinese rientra in partita all'ultimo minuto del primo tempo mentre Iguain perde un altro pallone senza palla, attenzione c'è il controviene dell'Udinese con il destro di Bruno Fernandez Raffael sbaglia ed è 2 a 2 a 20 dalla fine Bruno Fernandez pareggia l'Udinese Iguain in area di rigore, defilato si escentra Iguain, Berkic tocca e poi arriva il gol di Gemaili che riporta subito il Napoli avanti Blerim Gemaili, fa 3 a 2 chiocchia Maikosuel, la partita è ancora viva Maikosuel col destro stavolta Raffael ci mette le mani calcio d'angolo di Maikosuel verso Dujan basta in area di rigore ancora basta 3 a 3 Dujan basta a 10 minuti dalla fine il ruggito dell'Udinese che non vuole mollare pallone allontanato, lo tiene Pereira lo tocca ancora in controviene per Maikosuel Bruno Fernandez, Maikosuel è solo davanti a Raffael intervento di Maggio sul pallone un capolavoro di Maggio